Signori, siamo qui al cospetto di Bloodborne 2 con Unreal Engine 5, ovvero di quello che potrebbe essere Bloodborne 2 dal nostro Enfantarible che ha già fatto altre cose che abbiamo visto insieme. La cosa bella di Enfantarible è che lui li monta come se fossero dei trailer ufficiali. Vediamo come ha immaginato quello che potrebbe essere Bloodborne 2, che mi somiglia anche un po' a Resident Evil Village. Sì, diciamo che richiama quello stile lì, però richiama anche Bloodborne, ecco. Qui soprattutto, insomma. Più che altro. Ma magari! Ma magari fosse così. Io penso che From Software a un risultato del genere ci arriverà tra 27 anni e comunque non sarà così. Vabbè, in realtà, fattibile. Fattibile, lo facciamo noi? No, sai cosa? Che con Elder Ring si parla sempre di un gioco comunque open world, cioè aperto, eccetera. E Bloodborne dovrebbe essere, cioè se tornano alla formula che conosciamo... La superficie delle fogne, delle acque effettivamente reflue. Cioè, secondo me potrebbero arrivarci. Potrebbero arrivarci. Secondo me se ci mettesse mani Bluepoint. O Blue Box Studios. Quindi tu intendi per un remake? Sì. Più che altro, o più che per un sequel? Ecco, questo potrebbe essere un perfetto remake in Unreal Engine 5, ma a 60 fps. Mi raccomando, se no non abbiamo fatto niente, è di Bloodborne 1. Beh, ovvio. Di Bloodborne 1. Il remake perché lo fai? Qui mi risplende di luce perpetua. Attenzione, qui sembra quasi la demo Lumen in the Land of the Night. Però non vediamo personaggi né nemici. Se non morti. Le ambientazioni comunque sono molto belle. Ma questo è proprio bravo. Fa un bel lavoro di ricostruzione dei setting, quantomeno. Da solo, peraltro? Sì, 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 fa tutto da solo e tra l'altro usa diversi tool che ogni tanto vi abbiamo annoverato insomma in questa rubrica. Ha ripreso alcuni setting che potrebbero essere in, verosimilmente, Bloodborne 2 oppure che sono già stati presenti in Bloodborne 2 più o meno rielaborati, no? Per esempio questo qui. Bloodborne 1. In Bloodborne 1, sì. No, è uscito Bloodborne 2. Eh, questa è una cosa. È questa sorta di cimitero, infatti. Sì, questo richiama anche un po'... Sì, Resident Evil Village fortissima. Secondo me lui ha preso Resident Evil Village, ah, ne ha fatto pure il personaggio. Ah, ma fa anche il personaggio. Belle le texture dei tessuti, le hai viste? Fermo però senza movimenti, però... Ma in realtà si è inventato pure il logo che in realtà gira un po' sull'internetto per Bloodborne 2, le cui stanghette della D e della B vanno a fare il 2. Questa è una cosa simpatico. Bella, mi è piaciuto. Molto bello. E invece da Hull 00117, questo è un po' più vecchiotto, vediamo com'è Riverwood, la cittadina di Skyrim, reinventata, reimmaginata con la Real Engine 5. Ah, che bellezza. Che poi sembra un po' Skyrim con le mod estreme, no? Sì, è vero. Cioè se Skyrim lo moddi per bene... Se lo pompi... Lo pompi con le mod giuste, può arrivare a qualcosa di simpatico. Sì, effettivamente a Dato Bugs piace pompare Skyrim. Se poi piace pompare Skyrim con le mod. Sì, si, si. Che ripara le pompe a... Sì, basta, Riker. No, ai giochi, ai giochi gli piace. È tristissima. Ma perché questa rubrica è divertente anche, non è che deve... Mettio, aspetto a te, giro un grafico. Sono sempre cose fatte dagli utenti, quindi non è nulla di ufficiale, per cui anche ci divertiamo. Ma chissà come mai hai scelto Riverwood, che è un po' così. Come? Che è una strada. E non, che ne so, una Solitude o una White Run. Quelle sarebbero state più difficili da fare. Sai cosa, Riverwood è una delle città che incontri per prima, no? Sì, è la prima città che... La prima città, poi è a seconda di come te la gestisci, per carità. Però c'è un'ottima alternanza di luce solare, quindi di luce naturale e parti di ombre. Ecco, c'è un po' di pop-up, se vogliamo. Sì, l'ho notato molto prima. No, già non lo compro, però... Vedi il legname, come riflette bene, come assorbe il riflette... Bene la luce del sole. I riflessi sono veramente ottimi. Skyrimi legname ha bello piatto. Sì, ovviamente, rigorosamente. Anche il terreno è fatto molto bene, anche il dettaglio dell'acqua, devo dire, impressionante. Forse la corposità, no? La densità dell'acqua è un po' così. Ecco, questa transizione non mi è piaciuta. No? Ma... No, però vabbè. Beh, le belle le insegna anche, attenzione. Guarda i cordoni come sono fatti bene. Le texture. Le texture. Sai cosa? È che ha usato la furbata di spocarle quando sono in primo piano, no? Mm. Per cui, ecco, è una furbata che mi fa smussare tuzze transizioni, Al. E che dobbiamo fa? Ah. Belle, però, anche la vegetazione, le fronde degli alberi, anche la vegetazione presente sui tetti, che comunque sono di paglia. Allora, però, onestamente, spero che per... Allora, diranno Midron, ma cosa dici? Però spero che per The Elder Scrolls 6 si faccia di meglio. Considerando anche che passerà ancora tanto tempo... Ma no. Considerando che Starfield praticamente è Fallout 1.5, non penso, eh. Fallout 4 1.5. Ma considera che The Elder Scrolls 6 passeranno ancora anni, capito? Io considero questo. E quando deve passare per... Eh, perché ancora sono in pre-produzione, Raiden. Sono in pre-produzione. Io, onestamente, stento a credere che al risultato finito, anche verso la fine della generazione, riusciremo ad avere cose del genere. Io penso che cose del genere siano, per lo più, un modo per dimostrare quelli che sono gli orpelli, le potenzialità grafiche di cose statiche. Ma a me non sembra così impossibile. Eh, non lo so. A me sembra tanto difficile. In un Elder Scrolls, eh, attenzione. Perché è un gioco enorme, no? Non so, ragazzi. Ditemi poi qualcuno che ne capisce di queste cose tecniche. Non lo so, ragazzi. Secondo me, guardando... Quello che sto vedendo mi sembra fattibile. Fattibile sì, ma a che prezzo? Cioè, io penso che per un gioco enorme, penso che o solo alla fine di questa generazione riusciremo ad arrivarci, oppure semplicemente no, considerando poi il gioco in movimento con tutti i personaggi e con l'enormità del titolo. Perché questa, alla fine, è una mappina, una mappa che consta... Sì, lui è il trarre che gira sempre... Sì, ecco, e consta di poche parti, no? E quindi hai voglia qui a buttare effetti, texture, ragazzi e mazzi, luci, eccetera, eccetera. Perché tutto sommato te la giochi facile. Io penso che in spazi enormi come quelli di un potenziale di Elder Scrolls, Fallout, abbiamo visto già con Starfield qualche difficoltà stare al passo con i tempi. Infatti anche Digital Foundry ha dichiarato che Starfield è un frammisto tra old e new gen. Secondo me con titoli del genere non ci arriveremo in questa generazione. Sono pessimista, sono un po' pessimista. Ovviamente se vi piace questa nostra rubrica dedicata alle meraviglie della tecnica, realizzata da questi sviluppatori, questi... La scienza, la scienza. ...di questi ragazzi bravissimi che sull'internetto ci deliziano... Con le loro capacità. Con le loro capacità e ci fanno immaginare dei remake o dei sequel impossibili o quasi, fateci sapere con un like. E con un commento in descrizione come le devo. I mitri andate in brodo di giugiole perché ha visto immagini bellissime. Ora, è chiaro che noi comunque puntiamo a fare attenzionare al nostro cortese pubblico anche cose notevoli che non siano soltanto grafica, no? Certo. Ma qualcosa di particolare. A parte che ragioniamo anche su il possibile futuro, la possibile applicazione di certe cose. Anche se ormai quelli che si cimentano con Unreal Engine 5 stanno spuntando come i funghi. Quindi questo vuol dire anche che programmare con Unreal Engine 5 non è poi così inaccessibile. Eh, infatti, certo. Non per forza agli addetti al settore. Un conto è però fare questi filmati, queste sequenze, questi ambienti che non sono poi di gioco. Un altro conto è sviluppare un gioco in tutto e per tutto. Quindi, signori, fateci sapere qui sotto nei commenti. Grazie, alla prossima. Grazie. Grazie. Grazie.